La settima candidatura a sindaco di Imperia era nell'aria da tempo e puntualmente si è verificata a scendere in campo è Lucio Sardi che sarà capo di una lista civica che fa riferimento a sinistra italiana e liberi uguali. La candidatura di Sardi, commercialista e componente del CDA di Coimperia per la minoranza, si inserisce nel quadro della spaccatura creatasi nel gruppo consigliare di Imperia Bene Comune e messa in luce già nei giorni scorsi con la candidatura di Maria Seppe per potere al popolo. Dunque ad oggi per la corsa alla poltrona di sindaco di Imperia sono in gara l'ex ministro Claudio Scaiola con liste civiche e popolo della famiglia, Luca Lanteri per il centrodestra, Guido Abbo per il centrosinistra, Maria Nella Ponte per in Movimento 5 Stelle, il civico Alessandro Casano e nell'area di sinistra appunto Maria Seppe e Lucio Sardi. La presentazione ufficiale della Seppe è prevista per giovedì mattina nella sede di Arci Camalli sul porto Negliese e quella di Sardi venerdì mattina nella sede di Sinistra Italiana nel palazzo di Via San Giovanni dove ha sede anche il PD. Venerdì sarà una giornata intensa per il centrodestra, nel pomeriggio infatti ci sono una serie di appuntamenti in programma a Bordighera, Alassio e Imperia. A Bordighera per lanciare ufficialmente la candidatura a sindaco del primo cittadinuscente Giacomo Pallanca arriverà il presidente della regione Giovanni Toti che ha però dovuto incassare il malcontento di Marco Laganà che nel corso dell'ultimo consiglio comunale Bordigotto ha dichiarato di aver riconsegnato la tessera di Forza Italia al partito dopo la scelta di candidare Pallanca. Stessa cosa aveva fatto il presidente del consiglio comunale Mauro Bozzarelli, ex tesserato di Fratelli d'Italia. Sempre nel pomeriggio di venerdì in programma anche il lancio della candidatura a sindaco di Alassio del sindaco uscente Enzo Canepa. Con Toti ci saranno Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlamentari, assessori e consiglieri regionali. Ma anche ad Alassio Toti ha dovuto digerire la candidatura a sindaco contrapposta di Marco Melgrati. Il gruppo dei politici di centrodestra con in testa la Gelmini chiuderà la giornata a Imperia per la convention di Luca Lanteri in programma al Cinema Centrale alle 18. Una serie di esplosioni e del fumo legati allo scoppio di una cabina elettrica ha creato attimi di preoccupazione questa mattina in via Volta a Sanremo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia, carabinieri e agenti municipali e per precauzione è stato fatto evacuare l'edificio delle poste. Si è poi scoperto che gli scoppi erano stati originati da una cabina elettrica andata in cortocircuito in un seminterrato e sono stati quindi fatti intervenire i tecnici dell'Enel. Per fortuna l'incidente non ha creato particolari problemi, a parte la paura e dei cali di tensione nella linea elettrica della zona interessata. L'edificio postale è andato in blackout ed è stato sfollato dopo che alla prima esplosione si sono verificati altri scoppi, uno di fila all'altro. Giuseppe Lossicco, 4, 5, 6 maggio, Marina degli Aregai, mercato retro con Liguria Classic. Cosa significa? Cosa ci sarà per il pubblico? Liguria Classic organizza questo evento a Marina degli Aregai dove praticamente faremo tutto un'esposizione di retro, perciò vintage, visto che è tanto di moda diciamo. Quindi non solo auto e moto d'epoca? No, auto e moto d'epoca, vestiti, esposizioni di bambole d'epoca, ci saranno anche delle sorprese durante la manifestazione così di balli eccetera e qualcosa. Il club ha a disposizione se vogliono venire a partecipare a questo evento gratuitamente a esporre i propri programmi e così anche i collezionisti possono venire dal nostro mercato retro a parcheggiare le auto gratuitamente e con le auto d'epoca. Ci sarà una serie di espositori di antiquariato di qualità, tendo a dire questo, e un'aria bimbi con la Formula 1 in grandezza naturale, poi che dire, il posto è di prestigio e penso che la manifestazione abbia il suo perché. Tre giorni per appassionati, ma tre giorni per tutti, per famiglia. Io direi per tutti, sì, ce n'è per tutti i gusti. Abbiamo voluto fare questo mix di cose, anche se ti dico la verità, era un po' pericoloso, però io sai che ci provo sempre a fare questi eventi così, un pochettino rischiosi, diciamolo così, dai. E allora ce lo godremo al 4, 5 e 6 maggio, Marina degli Aregai, dalle 10 alle 19 il primo giorno e poi dalle 8 alle 19, sabato e la domenica. Vi aspettiamo. Quali sono le potenzialità di questi nuovi progetti? Abbiamo pensato, sotto richiesta delle varie circoscrizioni e sotto richiesta di alcune delle associazioni di Via Gramsci, di provare a capire quali siano le problematiche da poter affrontare, iniziando con dei microinterventi e approfondendo a creare un vero e proprio progetto di riqualificazione del quartiere. Progetti di riqualificazione ce ne sono stati anche nel passato, ma forse non si è tenuto conto della percezione dell'insicurezza. Verissimo, infatti quello che è importante nella riqualificazione, oltre a risanare le zone e far sì che vengano frequentate da giovani, da ragazzi per bene, da persone per bene, così evitiamo anche di doverle presidiare con agenti che spesso non sono in numero sufficiente. L'importante, oltre alla riqualificazione, è intanto monitorare con telecamere e quant'altro per evitare che quello che viene fatto di nuovo si possa subire atti vandalici e quant'altro. E poi naturalmente fare un progetto che vada anche dal punto di vista sociale a incidere positivamente sul tessuto urbano. Provare a vedere se inserendo dei microinterventi che possono essere la nuova illuminazione, il recupero di una piccola piazza, il recupero di un'area magari lasciata un po' troppo andare, questo possa essere un inizio per riqualificare completamente il quartiere, perché questo è uno dei quartieri più belli di Genova e fino ad oggi è stato lasciato troppo a se stesso. Il polo universitario ha due passi, quindi residenze per studenti. Assolutamente sì, infatti anche con l'assessore Vinacci stiamo provando a recuperare dei fondi europei per far sì che si possa partire anche con un tipo di progetto di questo genere. Progetti, progetti, ancora progetti, ma gli investimenti? Beh, gli investimenti, oggi parliamo di campus, di studentati, ci sono delle strutture che sono assolutamente disponibili a investire sui giovani che sono poi la svolta e la ripresa della città. Ho personalmente incontrato a questo proposito sia Cassa Depositi e Prestiti che la Banca del Consiglio d'Europa che insieme o separatamente sono ben disponibili a valutare progetti come questo che possono servire per il rilancio delle nostre università. E l'università quindi potrebbe intervenire all'interno di questa strategia? Assolutamente sì e quando diciamo università mi permetto di dire non solo la nostra università ma anche qualche università straniera. Ho appena avviato una relazione con diverse università americane per capire se c'è la possibilità di portare un ateneo americano a Genova, nella fattispecie l'idea sarebbe l'ex ospedale di quarto e gli investitori di cui ho parlato prima sarebbero ben disponibili ma questo ci permetterebbe di riportare dei giovani dal nord Italia e dal sud Europa a studiare a Genova. Piccoli passi in collaborazione con residenti e commercianti? In collaborazione innanzitutto con tutta la giunta, sia consiglieri che assessori e reputo che questo sia fondamentale perché siamo stati proprio chiamati e ognuno di noi per quanto di propria competenza sta dando delle risposte. Queste risposte verranno tutte messe insieme e uscirà un nuovo progetto per il quartiere. Verremo aiutati dall'università degli studi di Genova, dalla facoltà di architettura, dalla professoressa Morbiducci che è uno dei miei saggi che ha preso il carico da un mese e più o meno l'analisi di tutte le problematiche che ci sono state riportate e oggi ci comincerò a raccontare qualcuna delle possibili eventuali soluzioni, micro soluzioni perché è chiaro che un quartiere di questo genere con queste problematiche non possiamo arrivare da un momento all'altro a risolvere tutto, però ripeto con dei micro interventi arrivare piano piano a cercare di risistemare tutto. Ricordare e non commemorare, domani è il 25 aprile ed è doveroso rendere omaggio ai caduti per la libertà, alle donne e agli uomini che hanno immolato la loro vita per ridare la democrazia al paese. Ma non c'è democrazia senza libertà, così sottolineavano con forza coloro che si ribellarono al gioco nazifascista, all'atrocità di un regime che aveva messo in ginocchio il paese. Domani ricorderemo i tanti che hanno combattuto e i tanti che hanno permesso l'organizzazione di quell'esercito scalzo che ancora oggi viene portata ad esempio in ogni angolo della terra. Canteremo gli inni dei partigiani, da fischi al vento a bella ciao, nell'intento di far sapere con forza, a chi vorrebbe farci tornare in camicia nera, che non passeranno né le loro idee sovversive, né le loro bandiere, né la loro assurda nostalgia. Molti diranno che il fascismo è troppo lontano dalla realtà, che sono passati ormai 73 anni, che Hitler e Mussolini sono polvere da troppo tempo. Ma ricordiamo che il fascismo è sinonimo di violenza, è fascista lo studente che insulta e minaccia il professore, è fascista il bullo che per strada attacca il più debole, è fascista chi spaccia droga, chi mette bombe, chi parla alle pance e non alle teste della gente. È fascista anche il poliziotto o il carabiniere che picchia il cittadino inerme, ma è altrettanto fascista chi picchia il poliziotto, chi picchia il carabiniere. Buon 25 aprile a tutti. San Fedele da Sigmaringen Nacque in Svezia nel 1578 da Giovanni Rua e Genoveffa Rosenberger, che lo chiamarono Marco, studiò e divenne avvocato. A Colmar, nell'alta Alsazia, si guadagnò il nome di avvocato dei poveri perché difendeva gratuitamente i diseredati. A 34 anni decise all'improvviso di entrare tra i cappuccini di Friburgo, in Svizzera, con il nome di Fra Fedele. Fu superiore di vari conventi, in un periodo in cui la Svizzera era scossa dalla lotta politica tra cattolici e calvinisti. Il 24 aprile 1622 fu ucciso mentre predicava in un paese calvinista. Il suo corpo fu sepolto nella cattedrale di Coira. È patrono della città di Friburgo e Felkirk e dei giuristi. È invocato contro i furti e i crimini.